Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di MindLock di Tora Edizioni, quindi cominciamo subito. MindLock di Tora Edizioni al prezzo di copertina di 9,90€. Allora ragazzi vi mostro la copertina dove appunto vediamo questo bellissimo personaggio e dei pezzi di vetro in giro come potete vedere 1, 2, 3, 4 e 5 che ci mostrano altri personaggi che troviamo all'interno di questo albo. Perché? Perché andiamo a scoprire un po' quello che dice l'incipit proprio dell'albo. Questo albo racchiude 5 storie autoconclusive che raccontano le difficoltà e i sentimenti dei personaggi racchiusi al loro interno. Unite dalla sofferenza e i disagi delle loro esistenze hanno però qualcosa di ancora più forte che le accomuna. Il desiderio di cambiare se stesse e il mondo, con la loro forte volontà di ricominciare una nuova vita. Questa è la premessa che ci viene fatto prima di leggere MindLock. Allora, dico già che MindLock si legge in pochissimo tempo. Penso un quarto d'ora, forse lo leggerete tutte, le storie vanno giù in un attimo e questa potrebbe essere una piccola pecca per quanto riguarda proprio quest'opera. Ma prima di tutto questo, andiamo a vedere come facciamo di solito i tratti quando parliamo di manga. Allora abbiamo Special One. Ah, Special One. Questa è la prima storia che troviamo all'interno di MindLock. Vi mostro qualche tavola. Queste sono le prime due pagine così da non fare spoiler. Diciamo così, cerco di farlo in questo modo. e poi magari dopo andiamo a parlare di tutte le storie che troviamo all'interno. Parleremo poi di MindLess. Questa è la seconda storia che comincia così e queste invece sono le prime tavole. Poi andiamo ancora avanti perché abbiamo Hope. Questa è sempre la prima tavola bellissima per quanto riguarda Hope. Devo dire la verità, mi è molto piaciuta la prima tavola, quella di presentazione. E poi abbiamo, voglio trovare qualcosa, eccole qua. Ragazzi, secondo me le tavole di Hope meritano veramente tanto. Cioè il modo di disegnare dell'autrice è molto molto bello. Mi piace tanto tanto tanto. Poi andiamo ancora avanti e abbiamo Lucky. Questa è molto particolare come storia e molto particolare anche lo stile di disegno. Potete vedere qua e qua. Ricordo un manga di cui, però non ricordo il nome, degli anni 80-90. Di cui da piccolino avevo visto l'anime, per me in quel periodo chiamato cartone animato. E poi poco fa, pochi giorni fa, forse una settimana fa, ho scoperto ci fosse anche un manga. Ovviamente non è questa, è una storia a parte questa. E poi finiamo con Overthinking che è, eccola qua, questa è la tavola di presentazione. Spero che venga messa a fuoco. E la luce non disturbi che è, come vi dicevo, dell'autrice Ninfadora. Basterà una tavola per capire che è la stessa autrice che troviamo anche in MangaVive. Allora, vi stavo dicendo una cosa particolare. Mindlock si legge in pochissimo tempo. Questo purtroppo è una pecca di questo volume. Perché? Perché le storie, due specialmente, sono state ristrette così tanto da non darci nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo. O comunque, mentre stiamo vivendo una cosa, ne viviamo una che forse nella realtà non potrà mai accadere in maniera così veloce. Eppure si sta facendo un riferimento alla realtà vera e propria. Quindi, se fosse stata una storia immaginaria, in uno dei casi, al 100%, avrei anche capito. Come visto che si sta facendo tanto riferimento sulla realtà, secondo me fare un taglio così drastico mi ha fatto un po' dire Oh, caspita, è già finito, cioè finisce così. È un po' banalotta, mettiamola così. Stessa cosa capita con un'altra storia. Storia non vi vado a dire quale, ragazzi. Nel caso in cui voi vogliate, prenderete il volume così da poter poi dirmi la vostra. Andiamo a vedere in un'altra storia che cosa succede. Bellissimi tratti. Qua do tanto valore all'autrice, ma si cade in una banalità. Forse perché la stiamo vivendo troppo, forse perché è un tema che stiamo sentendo e risentendo, trito e ritrito, ma fin troppo banale. E qui ci si perde. Però devo dire che all'interno ci sono tre storie che mi sono piaciute particolarmente. Voi il tratto dell'autrice, in alcuni casi. Lo stile che si sceglie in altri. Voi proprio il centro della storia. Devo dire che tre sono molto molto carine. Qual è però, secondo me, l'anello debole proprio di Mindlock? A parte che, mi dispiace dirlo, ma il prezzo di copertina è altissimo per quelle che poi sono le storie che si trovano all'interno. Perché basti pensare che è vero che ha una qualità altissima, ragazzi. Qualità della carta altissima, qualità tutto della cover altissima. Però abbiamo alla fine cinque capitoli. Non abbiamo chissà che cosa all'interno. E questo un po' mi è dispiaciuto. Se invece, magari, si fosse pensato a farne anche due volumi di Mindlock, mettendo i primi capitoli o comunque dividendo le storie in metà e metà, allo stesso prezzo però facendo due volumi, mi dispiace, la cosa poteva già andare meglio. Perché alcune storie, e forse solo una in questo caso, sta benissimo nel suo essere autoconclusiva. Cioè, un capitolo è più che giusto perché ci lascia tutto quello che deve lasciarci. Le altre sono un po' velocizzate. Come vi dicevo, alcune veramente subiscono dei tagli drastici. o forse messi in un solo capitolo, in una storia così breve, autoconclusiva, non danno il senso che dovevano dare. Mi dispiace, si incorre quasi nell'essere banale, quello che dicevo prima. Però, a parte questo, ragazzi, vi devo dire che le premesse sono buone. Magari le autrici riusciranno in qualche modo ad avere più spazio per le loro opere, più spazio per le loro idee, più spazio per portare avanti i loro progetti. Magari come è successo proprio a Ninfadora, che ha pubblicato solo il capitolo 1 fino ad ora su Manga Vibe di After Time, ma in futuro, ovviamente, ne pubblicherà altri, ma potrebbe capitare la stessa cosa anche alle altre ragazze. Io quindi glielo auguro. Ora, a parte questo, volevo ringraziare Blacklist Crew perché mi ha inviato il volume di Mindlock e il volume, ragazzi, questo è un artbook, Bon Appetit, dove si incrocia l'erotico alla parte culinaria. E vi ho detto tutto. Purtroppo non posso mostrarvi, non si vede nessuna tavola, mi dispiace. Ne ho mostrato a qualcuna, ai ragazzi che sono con me nel gruppo. Qui, parlando di un artbook, il prezzo potrebbe starci perché è di 14,90€, consigliato da un pubblico maturo, ovviamente, e abbiamo un bel po' di illustrazioni. Quindi sotto questo aspetto qua potrebbe starci. Se siete amanti del genere, del genere, illustrazioni particolari o ecci, non so se si può definire ecci, allora io ve lo consiglio. Ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto. Io ringrazio ancora Tor Edizioni e Blacklist Group per avermi inviato questi due volumi. Vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, a commentare dicendomi la vostra per quanto riguarda questo genere di volumi. E, ragazzi, importante, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, è semplicissimo. Basta andare qui sotto, c'è scritto iscriviti e cliccateci sopra. Fatto. Semplice ed efficace. Ora, vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di seguirmi su tutti i social e vi saluto dicendo Sayonara!